Dopo aver opportunamente preparato il supporto, applicare una o due mani della tintura a prima mano su tutta la superficie che dovete decorare. Ad essiccazione completata, procedere alla preparazione di Naxos, miscelando il prodotto prima dell'applicazione. Applicare una mano di Naxos utilizzando il pennello Seto Splass della linea Griff. L'ultima pennellata deve essere sempre data nello stesso verso, per evitare disomogeneità di tinta, dall'alto verso il basso o viceversa. Se necessario, sulla superficie ancora bagnata, uniformare l'effetto eliminando eventuali accumuli con la spatola in plastica Deco Wrap della linea Griff. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti.